benvenuto ben trovato grazie per il tuo tempo senti noi ci conosciamo però per rompere il ghiaccio in questo nuovo appuntamento in questo nuovo appuntamento con le pillole di digital finance con team system raccontaci chi sei e cosa fai di mestiere ciao a tutti sono valentino pediroda io sono il co fondatore amministratore delegato di mode finance mode finance che un'agenzia di rating fintech specializzata nell'automatizzazione dei processi di valutazione del rischio di credito siamo un'azienda in crescita esponenziale e stiamo lavorando anche a livelli internazionali infatti da pochissimo abbiamo fondato anche un fan di international per lo sviluppo della nostra tecnologia e per la vendita della nostra tecnologia in tutto in tutto il mondo quello che facciamo è portare una nuova tecnologia nel mondo della valutazione del rating infatti siamo un'agenzia di rating e utilizzando anche tutte le nuove metodologie di company no casting quindi il fatto di andare a valutare le aziende in real time fantastico perfetta va benissimo senti valentino un po lei già annunciato no lei 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 ci ha dato qualche assaggio di questa cosa però appunto team system e mode finance sono impegnate proprio l'edettono nel mondo dei servizi di digital finance tu sei il fondatore il motore no propulsivo di mode finance e il vostro elemento distintivo è proprio questa piattaforma questo servizio di diagnostica per lo stato di salute di un'impresa no questo check up di impresa cdc in maniera molto pragmatica come proprio se quel format di questi di queste video pillole di che cosa si tratta ma è una piattaforma e che abbiamo chiamata rating as a service praticamente e serve alle aziende e ai professionisti che lavorano con le aziende nel per valutare il comportamento economico finanziario dell'azienda stessa quindi commercialisti o il proprietario delle aziende amministratore delegato hanno possibilità in real time di controllare l'andamento economico finanziario dell'azienda stessa e questo di straordinaria importanza perché se ci sono delle problematiche vieni avvisato e quindi puoi chiaramente e trovare le contro contro mosse per evitare di cadere nei problemi di crisi ma soprattutto se vai bene hai un mezzo con cui puoi andare a richiedere finanziamenti a dei tassi agimorati certo certo senti grazie mille senti un'ultima cosa non vogliamo abusare del tuo tempo questo strumento di check up può essere uno strumento utile e di supporto per le imprese che devono affrontare nuove norme sulla crisi d'impresa e come assolutamente se anzi l'abbiamo proprio verticalizzato come va di modo a dire proprio per la nuova normativa della crisi d'impresa praticamente il commercialista il professionista e il consiglio di amministrazione i sindaci hanno la possibilità di controllare in real time l'andamento della società e di conseguenza hanno tutto un sistema di alert che ti può preavvisare se ci sono determinate problematiche questo cosa ti permette ti permette chiaramente di poter affrontare determinate crisi in maniera molto più attiva e non reattiva e quindi essere propositivo anche nei momenti di difficoltà insomma è un sistema che noi vogliamo per aiutare le aziende ad affrontare questi momenti che sono così problematici in cui bisogna essere veramente rapidi nel prendere contro mosse fantastico valentino grazie per il tuo tempo e soprattutto per lo sforzo di sintesi grazie per essere stato con noi grazie mille a voi ciao bene allora è stato con noi valentino pediroda di mode finance abbiamo parlato appunto di questo strumento di diagnostica check up per l'impresa avanti tutta con le video pillole del digital finance di team system